Grazie a tutti. Sarebbe bello vivere dentro una figurina, quelle dei vecchi albi che tiri giù in cantina. Le foto che ritraggono il cuore dei campioni, con degli sguardi semplici da prima e comunio. Allora era più facile soffrire per passione, davanti ad un cancello senza la televisione. Non c'erano feriti solo calci ad un pallone, le urla di un bambino che chiama il suo campione. Oggi non è come allora, come nelle figurine, perché si sono scollate e vendute da meschine. Oggi non sono come allora, come nelle figurine, perché si sono scollate e vendute da meschini. La palla fende il campo in aria di rigore, veloce come un lampo, la segue il calciatore. Si gioca quanto basta, per soldi o fantasi, e chi riesce a sognare, ci offre una magia. Giocare contro il tempo, prima o poi farà segnare, senza tradirgli i spalti, sono i soli ad applaudire. Non tradiamo i sentimenti, le speranze senza fine, come gli occhi dei ragazzi, persi in queste figurine. Mi ripongo giù in cantina, quegli antichi calciatori, che riprenda pure il gioco, con il cuore più valore. Giocare contro il tempo, con il cuore più valore.